L'emergenza delle polveri sottili è un tema che nuoce gravemente la salute di tutti. Ormai non riguarda solo le grandi città ma colpisce anche Fano. È scientificamente dimostrato che le polveri sottili causino malattie respiratorie e tumori. Le principali fonti da cui derivano sono il riscaldamento domestico, le industrie, il traffico e le attività artigianali. Questo tema è stato oggetto di interpellanza presentata in comune dal Movimento 5 Stelle in quanto la città di Fano nel 2019 ha superato il limite previsto dalla legge di 35 sforamenti annuali provenienti sia dalla centralina di via Monte Grappa che quella installata nella zona industriale di Bellocchi. Quest'anno si apre con la peggiore delle situazioni, i livelli sono ancora più allarmanti se questo fosse possibile, siamo già a 10 sforamenti in 16 giorni dal nuovo anno per quanto riguarda questa centralina, 5 sforamenti invece per quanto riguarda la centralina di Bellocchi. Ieri sono dati appena usciti, ieri abbiamo raggiunto addirittura qui in via Monte Grappa il livello record di 109 microgrammi per metro cubo. Secondo i grillini le tre ordinanze emesse dal sindaco Seri non adeguatamente comunicate alla popolazione non sarebbero state accompagnate da controlli da parte di organi competenti. I 5 Stelle lamentano anche la mancanza tuttora di esiti dello studio ambientale sulla zona industriale di Bellocchi frutto di una convenzione sottoscritta dal comune con l'Università di Urbino il cui termine era stato fissato originariamente a giugno 2019 ma prorogato a febbraio 2020 sottolineando la mancanza delle due giunte guidate da Seri che da 5 anni e mezzo non affrontano seriamente il problema dell'inquinamento atmosferico. Dopo la presentazione della nostra ordinanza qualcosa sta cominciando a muovere per interventi d'urgenza, valuteremo se saranno sufficienti ovviamente interveremo con nostre proposte qualora fosse necessario però ecco è anche l'ammissione da parte dell'amministrazione di praticamente un totale immobilismo per quanto riguarda il fronte dell'inquinamento dell'aria.